Buongiorno a tutti, come potete vedere non mi parlo dal mio consueto luogo di lavoro ma direttamente da casa. Questo perché in seguito all'emergenza, come tutti saprete, del coronavirus, viceformazione per il proprio senso di responsabilità per garantire il bene dei dipendenti, di tutti i nostri studenti e di tutti i nostri utenti, ha deciso di chiudere le sedi. Rimarremo comunque a disposizione ai numeri che troverete qui nel post per qualsiasi informazione. Cosa succederà invece ai nostri studenti? Niente, abbiamo semplicemente adottato un sistema di formazione a distanza. Il progetto si chiama Io Studio Facile e abbiamo creato delle classi virtuali per tutti i nostri studenti con le quali interagiremo con videoconferenze, con compiti assegnati, con verifiche. Insomma, continueremo a assisterli da casa come facciamo sui banchi di scuola. Abbiamo creato anche dei gruppi e delle discussioni. Un sistema che a noi era già noto perché da qualche anno già abbiamo sperimentato con il corso turistico della sede di Verbania e quest'anno anche con le tre classi del corso di arte bianca di Gravelona Toce. Un sistema che diventerà adesso unico per tutti i nostri studenti e di tutte le nostre sedi. Quindi saremo sempre vicino a loro in qualsiasi momento della giornata per cercare di non fargli mancare quella formazione che avrebbero acquisito durante i giorni di scuola. Sperando che tutto torni presto alla normalità per le nostre zone, per il Piemonte e per tutta l'Italia anche vicino a formazione, io resto a casa, andrà tutto bene e io studio facile. Buona giornata a tutti!